Grazie a tutti. All'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola è stato collocato nell'asio del paviglione Scarlini un pianoforte verticale per donare la bellezza della musica e il sollievo delle note musicali a tutti coloro che si trovano di passaggio. Lo strumento è stato donato all'azienda USL di Modena dall'Associazione Nazionale Cantanti Lirici di là per volere della sua presidente, la soprana Paola Occhi, dopo una lunga degenza presso la pneumologia dell'ospedale. L'idea è nata con lo scopo di creare anche all'interno degli spazi ospedalieri dei luoghi di relax ma anche di arte e di cultura nell'ottica di miglioramento della qualità della vita delle persone che quotidianamente lo frequentano. Spero che sia un buon inizio per fare eventi e per non fare sentire le persone in difficoltà in un momento un po' particolare e penso che la musica sia di sollievo. La musica ha dimostrato di essere uno strumento di miglioramento, l'ho dimostrato addirittura scientificamente, ma al di là di questo rappresenta un elemento che connota i luoghi di assistenza in modo diverso. La musica ha dimostrato dalla misura di quanto siamo persone, prima di tutte le ragioni per cui siamo, per cui ci troviamo, e libera l'energia, dell'energia, dello spirito e della vicinanza, che sono veramente fondamentali, io credo, altrettanto quanto le relazioni con le persone che svolgono un lavoro di tipo più tecnico. La musica ha dimostrato di miglioramento della qualità delle persone che svolgono un'evoluzione,